il gioco metto uno dei calcoli grasti dopo un po' ha profisso otto com'è? zero zero vai sei sei sette com'è? sei sicuro? due nove vabbè zero ecco questa è l'ultima parte che li chiamo ma basta con la mia non lo sapete più indietro sì, pronto? ciao, sono io pronto? ma io chi? Anna Maria Anna Maria? Anna Maria chi? passarmi il listro la cancelliera oh Dio, Anna Maria, carissima non ti avevo proprio riconosciuto ma come stai? non ce lo sai tesoro, sì mi dispiace tanto per tutta questa storia non immagini facci l'ostra ma quanti guai po' vecchia vado voi ma tassi da e non si poteva fare altrimenti sai? Giulia non mangiava più era tutta felle ossa e poi non faceva più shopping da almeno un mese ma te capisco ma te capisco sai non bagniamo ma con noi che con tutti stavo tu fatemi sui inimbedenti assai non sei quanto ti capisco non lo sai tu sei ci sei a oh 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 Certo carissimo sono qui ti ascolto dimmi Come stai tu? Per noi è stata dura sai tutte quelle calugne Vabbè un po' ladri ci siete Ma cosa stai dicendo scusa? Sono solo una serie di spiacevoli equivoci sciocchette Tutte invidie e basta Quegli azionisti di Corcaru hanno un randello che ci vai a parlare tu Si quelli lasciali gridare che poi si stancano In fondo quando compri delle azioni devi calcolare il rischio no? Se non ci cerchiamo tutti quello squallore di posto fisso no? Dove voglio bene a voi Anche noi tesoro Vabbè pare tutti carcerati Quello che vuoi vero Portaci vostra Ma Anna Maria ma cosa dici? Tesoro non è che ci conosciamo da tanto tempo Dai su Adesso attacco non vorrei Aspetta fatti almeno salutare Per giocare Per giocare i ragazzi miei Tanto rimando qui Potete pure morire Ma come morire? Ma io non ti riconosco più Non sei più la stessa? Anna Maria pronto? Ma non scherzo E' la mia più sentita 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 E' la mia più sentita